Grazie, ecco che l'abbiamo silenziata. Motociclisti, quando si spegne la moto di Paolo, potete partire con i vostri motori. È pronto il taglio, sindaco? Via con l'applauso ragazzi, inaugurata ufficialmente! Grazie, ecco che l'abbiamo! Grazie, ecco che l'abbiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!